Atmosfere oniriche e malinconiche in una trasposizione in chiave moderna della sofferenza del mal d'amore della lontananza e della partenza dove a suggerire le immagini sono le parole stesse della canzone la più nota ballata del salento un omaggio al salento ed una delle sue canzoni della tradizione più famose un omaggio alla lingua salentina che ora la voce di giuliano san giorgi c'è da scommetterci trasformerà in un successo perché tutto ciò che il leader dei negra maro tocca diventa oro e lo ha già dimostrato con la reinterpretazione di meraviglioso di il nuovo video per la canzone L'Uruscio dell'umare è stato presentato in anteprima a Melpignano prima dell'avvio del concertone è stato realizzato dal Locomotive Quartet ideato dal sassofonista Raffaele Casarano che ha composto le musiche che insieme a San Giorgio ha omaggiato la sua terra L'Uruscio dell'umare è il primo singolo estratto dal nuovo lavoro di Casarano dal titolo Noè prodotto dall'etichetta TAC Music di Paolo Fresu in uscita il prossimo settembre a dirigerlo il regista salentino Tiziano Russo che ha scelto di ambientarlo proprio al sud tra Santa Maria di Leuca e il Gargano dove volti e figure indefinite si muovono in scenari diversi camminando e addentrandosi in luoghi sconosciuti e il punto d'arrivo è sempre un'incognita come accade con i sentimenti una favola di uomini e natura proprio come la terra salentina i trame danno un fiore io la farò la figlia dell'un re se india la spagna la figlia dell'un re se india la spagna